Let's go, allora, con la nostra whiplash Ok, calma, no ho già rotto, non ci credo No Allora ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono voi ben ritrovati Nel video di oggi andremo a distruggere Fortnite Come direte cosa vuol dire poco che andrei a distruggere Fortnite Ah no, niente, l'avevo te letto dal titolo Bene, oggi andremo dalla navicella madre Quella che insomma è stata rotta nell'evento E proviamo ad andare lì e proviamo magari un po' ad addentrarci dentro Anche se l'avevo decisamente dura, anche perché penso che sia inerrivabile Ma noi ci arriveremo Perché Poe sai di glitch ragazzi, si si Poe è un po' esperto di glitch E quindi noi ci andremo, mi raccomando subito su con un bel pollice in su Se vi piace il video, se vi sto simpatico Oppure se volete anche lasciare una bella iscrizione vi ricordo che è gratis Inoltre chiunque si abbonerà sia qui su YouTube che su Twitch Ragazzi su Twitch vi ricordo che vi potete abbonare gratis Potete farlo totalmente gratuitamente, basta che avete Amazon Prime Lo collegate a Twitch e poi, bom, potete fare l'abbonamento gratuito Chiunque farà così riceverà da me tutti i vantaggi che appunto ha qua su YouTube Io lo farei anche perché è gratis E poi ovviamente, ma dice Poe è nello shop, supporto al creatore Piavo doppi anche con la che la vina, mi raccomando non sono io Voglio dire di mettere subito pronto e andiamo subito in partita Ok, bomba ragazzi, eccoci qui in partita E noto, vabbè, si è attivato Google Ed ecco lì la nostra nave madre, ragazzi Sembra veramente lontanissima Sembra in un'altra isola di Fortnite È una cosa assurda, è veramente grande Dovrebbe essere una cosa come il quintuplo di quest'isola qui Però non ci proviamo ad andare, ragazzi Magari dobbiamo prendere subito una bella Lamborghini Perché è esattamente ciò che ci serve Una bella Lamborghini Dove possiamo trovarla, la Lamborghini? Fatemici pensare, fatemici pensare Una bella Lamborghini Forse qui sopra, ragazzi Una volta mi ricordo che qui sopra c'era una Lamborghini Infatti, eccola qui, ragazzi Questa sarà la nostra Lamborghini Che ci accompagnerà per tutta questa sfida Per tutta questa challenge, insomma Come la volete chiamare E dovremmo essere full di materiali Perché, appunto, ci serviranno tantissimi materiali Decisamente troppi, troppi, troppi E anche un bel po' di benzina Innanzitutto disattiviamo la musica Perché ci dà fastidio E devo già subito farmi un po' di materiali Che ci servono subito Eccoci qui Dai che siamo quasi full di pietra Una picconata e boom Mamma mia, ragazzi Con una picconata a 109 Ok, allora Prendiamo un po' di benzina Che dovrebbe essere qui Se non sbaglio qui dentro Intanto prendo anche un po' di legno Dato che c'è E è gratis Bene, possiamo usare questa ricarica qui Perché qua, ve lo ricordo Che ragazzi c'è il benzinaio Quindi possiamo fare quante ricariche Di carburante vogliamo E quello che ci manca adesso È giusto un pochino di legno Tanto ce lo facciamo in un millisecondo Anche perché siamo nel laboratorio Della battaglia E bomba Vai, guidiamo la nostra auto Mamma mia, ragazzi Quanto mi servirebbe Una bella zanica di benzina Uh, qua c'è una bella casa Che ce la prendiamo Scusatemi, jump Ma Mi ha teletrasportato Dall'altra parte Ma Ho visto Un bug che Era un po' particolare Però va bene Va bene ragazzi Ottimo, ottimo Se ci sono delle tanniche di benzina Tanta roba Io quello che mi serve adesso è Ovviamente non far aspettare troppo Anche perché ci vorrà decisamente tanto Ragazzi Che la safe tra la parte Tra quattro ore Qua c'è ancora un po' di Eh, cose che possiamo Rimettere in sesto La nostra Lamborghini Qua non vedo Carburante Mannaggia ragazzi È proprio Difficile da trovare Questo carburante Mmm Questa tannica Scusatemi Di carburante Allora Tu Non so come fermarmi Ti fermo io Ti fermo io Ah no Mi ha Ma hai pure aiutato Ecco Ed eccoci qui ragazzi Purtroppo non ho tantissimo Carburante Ma perché è normale Non ho trovato Una mezza tannica Di benzina E quindi ragazzi Adesso provo ad andarci A piedi Poi magari vediamo Un attimino Adesso andiamo a piedi Ragazzi proviamo a piedi Ci mettono veramente Tanto Ma alla fine È così Ecco Mamma mia Comunque non so Quanti metteris Anzi non mi fa neanche pingare Esatto Niente ragazzi Proviamo adesso ad andare a piedi Ma tanto la vedo Decisamente dura E poi proviamo Addirittura Con la Lamborghini Inizioci a vederla Safe Ok No Sono caduto Sono caduto Sono caduto E Mamma mia ragazzi Foste nella vita Realizzare è già morto E Allora Devo fare una cosa ragazzi Devo tornare subito In qualche modo Ma non so neanche come farò Comunque avete visto Che siamo arrivati Fino al limite Ed eccoci qui Infatti Dobbiamo provare Anche con la macchina Con la nostra Lamborghini Per vedere Se funzionerà Mamma mia Quanto è lontano Mamma mia Il laboratorio C'è da andare Non c'è da andare sull'ufo Con questa Oh aspetta che Devo fare una roba del genere Con questa macchina Let's go Allora Con la nostra Whiplash Ok Calma No Non ci credo No Magari Non riesco a recuperare Non riesco a recuperare Non lo so Non riesco a recuperarlo Ragazzi Non ci voglio credere Non ci voglio credere Devo fare il doppio Del lavoro Ragazzi E vabbè E vabbè E mi sa che Ma poi succede Veramente Ragazzi C'è una scala Che vola What? E non è ancora Stata distrutta Ma? Cioè Non dirmi Che appena vado Si distrugge Ma è scomparsa E vabbè Ragazzi Però sto gioco Mi prende in giro Ok Sì Sì Siamo quasi arrivati Forse Non lo so Spero Boh In qualche modo Allora Dov'è la nostra Lamborghini Ragazzi Perché adesso Abbiamo due C'è C'era una Lamborghini C'era una volta Una Lamborghini Che adesso Non vedo più Perché non vedo più La Lamborghini Mi sa che devo fare La gara con questa Ragazzi Bene Già più carburante Di quell'altra Bene ragazzi Allora adesso Andiamo calmi Andiamo calmi Andiamo calmi Andiamo calmi Andiamo calmi Non devo distruggere niente Ok Devo solo andare così Ok Molto bene Molto bene Molto bene Calmo Calmo Boh Che poi Cadi giù E non va bene Molto calmo Boh Molto calmo Anche qua Calmo 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 Ok Ok Non l'abbiamo rotta Molto bene Molto bene ragazzi Molto bene Dai che forse ci siamo Dai che forse ci siamo Dai che forse ci siamo Ok 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 Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Non dobbiamo distruggere niente Siamo quasi a 50 di carburante Ragazzi Ancora Dai dai Con la targa Super fast Tra l'altro Ok 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 Qua c'è un'altra Bene bene Non volevamo giù Calma Power ragazzi Non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ok Lì inizio già a vedere La struttura che abbiamo Vado prima per salire Ragazzi Questa dovrebbe essere L'ultima rampa Questa dovrebbe essere L'ultima rampa 3 2 1 Brum Si Si Siamo avanti Siamo avanti Non si può andare oltre Non si può andare oltre Non si può andare oltre Però attenzione Perché Siamo andati fuori il limite Ragazzi Questo è fuori dal limite Non ci credo Siamo andati fuori dal limite Ok Ok Sarà molto difficile arrivare Fino alla ragazzi Però Siamo andati già Oltre il limite Che si poteva andare Questo è un bel bag E questo è un bel bag Andiamo avanti ragazzi Let's go Dai 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 Che forse ci riusciamo ad arrivare Alla nave madre Io la vedo decisamente dura ragazzi Pensa che non si possa fare Però Però Io ci credo Io ci credo Io ci credo Guardate già ragazzi Dov'è l'isola Io non la vedo neanche già più L'isola di Fortnite Inizio però Già a vedere il fondamenta Vedo Vedo Sì sì Vedo già un po' di fondamenta Del nave madre Mamma mia ragazzi Quanto è grande Noi ne andiamo adesso A contemplare Però l'unica cosa Che c'è la safe Quindi non mi sa che non possiamo Neanche stare tanto in safe No Non ci credo Non ci credo Siamo stati bloccati Qui Non ci voglio credere Ragazzi Questo è il limite Massimo No Purtroppo Non si può andare avanti Ragazzi Non ci credo Non posso tipo spaccarlo Non lo so Non riesco ragazzi Non si può andare oltre Magari proviamo ad andare Più in lava Magari qui si può Niente ragazzi Non si può andare avanti Lo state vedendo pure voi Che io sto schiacciando E non vado avanti Quindi Purtroppo Siamo stati molto sfortunati Però questo è il limite Massimo di forte E non penso Ne esistano altri modi Per oltrepassare il limite Ragazzi Io vi ringrazio Veramente tanto Per la visione Di questo video Vi ricordo che sarò Stasera Live all'ore 20 e 30 Come ogni giorno Io vi saluto E vi auguro Una buona giornata Ciao belli E stasera Ciao Ciao